Come svuotare il guardaroba senza rimpianti? Ogni anno tra una stagione e l'altra ritorna al tanto temuto momento del cambio dell'armadio e se quello dall'estate all'autunno ci sembra ancora lontano, è anche vero che le spese folli durante i saldi possono rendere indispensabile dare una sistemata a scaffali e cassetti ormai saturi. Dunque, come organizzarsi e come scegliere cosa tenere e cosa gettare? A darci qualche suggerimento è Milena Betto, consulente d'immagine, protagonista della nostra trasmissioni tv Oggi come mi vesto. Spesso i nostri vestiti ci ricordano qualche momento passato particolarmente emozionante, dice. È giusto quindi tenerli, ma è altrettanto giusto e doveroso fare una selezione e chiederci se davvero riusciremo mai a indossarli ancora. Io consiglio sempre, anche quando lo faccio io, di tenere le cose che so che domani potrò mettere. Cioè, mi spiego. Domani devo andare in negozio, domani devo andare in ufficio. Ecco, mi metto questa maglia. Sì, no. Se sì, la tengo. Se no, la metto via. Perché se non la metterò domani non la metterò neanche dopo domani, neanche dopo domani. E noi magari abbiamo delle cose in cui siamo affezionati perché magari o abbiamo speso magari una certa cifra oppure ci ha accompagnato in, non so, in qualche cena, in qualche evento che ce lo ricordiamo. Però poi, siccome il vestito, come ci presentiamo, fa parecchio e insomma ne va un po' anche magari del nostro lavoro, di quello che dobbiamo fare. Ecco, scegliamo bene cosa tenere e cosa non tenere. Due vantaggi? Siamo vestite bene, siamo vestite nuove, possiamo comprarci qualcosa di nuovo e l'armadio non è soffocato e non corre di caderci addosso tutte le volte che lo apriamo. Anche se a volte il tenere qualcosa di vecchio può servire perché la moda si sa, spesso e volentieri ripropone dei capi che già andavano qualche anno fa. C'è stato il periodo degli anni 60, ora ritornano un po' i vestiti maxi, extra large, anni 80. anni 80. Sì, è vero, diciamo che il ritorno è sempre qualcosa che si ripropone. È il sapore che ritorna, è l'idea del taglio che ritorna. È bello ottenere, secondo me, qualcosa di vintage che magari avevi di importante, ma altre cose che magari sono state comprate non ci vanno più perché se le proviamo, vediamo che comunque e compriamo una cosa simile che ricorda, vediamo che quella ormai è obsoleta, quindi non è vintage, è vecchia. La volete mettere, riprendere qualcosa tipo questa che può avere il gusto anni 80, ti ricorda magari una serata in discoteca, però non è quella di una volta che magari diciamocelo, il tempo passa e non ti va neanche più tanto bene, insomma le forme cambiano.